Massa non è intervenuto sul contatto Barrow-Florenzi, Florenzi ha protestato, si gioca, possesso palla del nazionale austriaco Posch, deve andare a chiudere Ballotti Re, la palla rimbalza ancora verso Posch che supera Rebic, il cross e il gol subito del Bologna. La rete immediata di Sansone dopo 30 secondi, così diventa difficile ragazzi, così diventa veramente difficile. Bologna se ne è andato due volte verso la nostra porta, verso la nostra area, così diventa dura ragazzi, così diventa dura. Saltati netti, dopo 30 secondi subito gol del Bologna. Combinazione, Posch non riesce Ballotti Re a tenere palla, qualcuno lo mette giù e Sansone anticipa Calulu. Palla messa in mezzo da Ebisher, niente da fare per Mike Mignon. Così ragazzi diventa difficile poi reggere l'intera partita. Diciamocelo subito. Subito gol, più facile del previsto per Tiago Motta e per il Bologna. I nostri cadono e gli altri vanno in porta. Forse c'è un check. In attesa di notizia d'arbitro Massa. Giochiamo. Vediamo se in qualche modo inizia un po' di partita anche per noi, Florenzi. Grazie. Grazie. Grazie.